Simona, Simona, eccola! Ben arrivato! E che donna, e che donna! Lei mi vuole bene, lei mi vuole bene. Simona io ho detto che sei una donna, che quando ha amato un uomo hai avuto anche molto coraggio. Mi sbaglio o no? Sempre sì. Ecco, va bene, possiamo cominciare. E come diceva Totò con questo detto tutto, perché Gigi sai, Simona, parte sempre dall'amore, perché ha ragione, l'amore è importante nella vita di tutti noi. Ma l'amore è la chiave di tutto. L'amore è il lavoro anche. Il lavoro, certo. Ma l'amore è anche per il lavoro, no? L'amore è inteso. E quando sei innamorato, lavori ancora meglio. Certo, ma non è che uno si innamora tutti i giorni, quindi magari... E' interessante anche mantenere un atteggiamento d'amore per la vita, per le cose da fare, per il rapporto con gli altri, per noi stessi nel senso migliore della parola, lo dico anche le bellissime ragazze che stanno qua. E' vero, sono bellissime. L'amore è di sé e il rispetto di sé. Rispetto di sé. Rispetto di sé. Simona, dove la trovi tutta questa energia, questa voglia sempre di fare, di metterti in gioco? Perché forse è una delle tue caratteristiche più belle. Ne hai tantissime. Dovremmo avere, non so, tutto al giorno per elencare tutte le tue caratteristiche meravigliose. Ma questa voglia di fare, di metterti sempre in gioco in cose diverse, da dove viene questa voglia? Da questo spirito d'avventura, tra virgolette, che il nostro padre e la nostra madre ci hanno comunicato, a me e mia sorella. L'avventura del vivere, del creare qualcosa, del mettersi in gioco senza paura. E' una cosa che vorrei comunicare a tutti i ragazzi. Bel messaggio questo. Non bisogna avere paura di vivere. Oggi ti mettono addosso la paura, l'indifferenza, la sfiducia. Ma è una tecnica, così siete più manipolati e consumate e basta. Ma vi consumate. Invece no. Ascoltate queste parole preziose. Perché glielo dico veramente con grande amore, grande affetto. Io ho tutto un progettone per le scuole e spero di realizzarlo. Proprio per coinvolgere i ragazzi in attività creative, capito? Quello vi aiuta anche ad amarvi, a stare insieme. E infatti tu vieni da una famiglia, diciamo, molto creativa, non ordinaria sicuramente. Raccontaci cosa fa, cosa faceva. Perché papà è stato costretto così, dai doveri familiari, a fare il costruttore, insieme al fratello, persone molto brave, attive, capaci. Avevano un grande rapporto con i loro operai. Insomma, vabbè, avevano un'idealità molto robusta loro, no? I partigiani. Vabbè, è tutta una lunga storia. Però quello che lui ha mantenuto sempre vivo era misurarsi con le cose. In realtà avrebbe voluto fare l'attore, ma non ha potuto. Quindi ti ha trasferito involontariamente questa passione. Sì, noi, anche questo amore del teatro. A casa nostra venivano solo artisti, amici di un certo tipo, così. Ma non per fare gli snob, era proprio la voglia, la curiosità della creatività, no? Quindi dagli artisti, dai pittori, gli scrittori, i registi, da noi venivano Leopetri, venivano Azzurlini. Cioè, era tutto un mondo. Io sempre con l'occhio incantato, perché tu capisci, erano interessanti. Eri rapita? Eh sì, ero tutta con l'occhio. I coetanei interessavano meno? No, carini però. Carini? No, ma insomma ero attratta. Quindi questa cosa, poi, tra le tante attività di mio padre e creatività sue, lui finanziò la prima mandragola di Machiavelli nel dopoguerra, perché col fascismo non la rappresentavano, e la finanziò mio padre con la vittima 21enne, che recitava il prologo, e quindi con Tofano, che era un grandissimo attore, per dirti il personaggio. E poi aprì la galleria, importantissima, la nuova Pesa, nel 59. È stata una galleria importantissima negli anni 60, perché erano anni meravigliosi a Roma. Voi non ci crederete, ragazzi, oggi. Ma era una città piena di cultura, di curiosità, di correnti artistiche, di stranieri che venivano in Italia a lavorare, artisti. Secondo te può tornare quel... Sì, bisogna volerlo. Quell'energia, quel fermento, quella voglia di fare. Io dico, sì, siccome conosco tanta gente bella, creativa, io ho riaperto la galleria nell'85, e vi assicuro che c'è tanta gente bella da conoscere, è che è quella che fa meno notizia, perché non fa né scandalo, né dice parolacce, non fa quell'esibizione sgradevole che vediamo continuamente, che non è libertà, è solo maleducazione. Mala educazione. C'è tanto da vivere e da conoscere. Allora bisogna avere questa curiosità. Ecco, la curiosità. Sì, è importante. È importante anche proprio farla crescere nei nostri bambini, no? Sì, sì. Aiutare i nostri bambini. Fin da piccoli, diceva il grande bollea, il grande pedagogista, eccetera, diceva che i bambini devono fare attività creative. Perché? Quella è la nostra parte migliore, quella che naviga di qua, di là, prende, impara, ci vitalizza, capito? Ci fa dare il meglio e poi ci crea degli interessi che ci fanno compagnia tutta la vita. Non pretendo che tutti amino la musica classica, però vi assicuro. E poi ognuno trova la sua forma, no? Ma assolutamente, certo. Ancestica al suo... Ma assolutamente, non è che io sono così antica e bacchettosa, no. Ma direi proprio di no. No, ma... Senti, l'amore a un certo punto, no? L'amore è stata una parte importante della tua vita e continua ad esserlo. Un primo matrimonio con un uomo con cui nasce la tua figlia, Roberta. Mia figlia, l'unica figlia, sì. L'unica figlia. E poi un secondo matrimonio che ha annunciato appunto Gigi con questo grande campione calciatore che è appunto Franco Cordova. Sì, sensibile, affettuoso, prepotentissimo. E' stato un grande amore. Sì. Un grande amore. E' stato un grande amore perché io finalmente ho vissuto un amore da giovane, da ragazza giovane, con un uomo appassionatissimo. In che senso? Perché da giovane? Ma perché prima mi innamoravo sempre di amici di papà, impossibili naturalmente. Stavo lì in adorazione, ma tu capisci, non c'era pane per i nostri denti. Poi è andata in Calabria, va bene, sono sposata, ho avuto mia figlia e poi ho passato dei guai neri, va bene, in quegli anni, molto penosi. E ho conosciuto Cordova al matrimonio di un altro calciatore, papà mi mandò a rappresentare la famiglia. E lui cominciò il suo corteggiamento. Ah, ma non sei granché, ah, sei la figlia del presidente, credevo meglio. E diceva, vabbè, che posso farmi dispiace. Vabbè, ma tutto così molto... E poi mi ha corteggiata come un cavaliere del Settecento. Proprio una cosa è stata di una grazia, di un garbo, no? E tu ti sei fatta travolgere da questo grande amore. Sì, perché finalmente, capito, era diretto, era vero, intelligente. Poi a un certo punto, come tutte le cose belle, ahimè, a volte, a volte possono finire. Possono finire. Perché è stato un grande dolore. Sì, enorme. Ma poi è stato un amico di tua figlia, un amico, un padre, un compagno, tutto. Mi ha voluto molto bene a Roberta, le vuole bene ancora, tuttora, anche a mio nipote. Che cosa hai fatto per superare questo dolore? Perché non è facile, magari avremo tante persone che ci stanno guardando e che stanno passando anche loro dei momenti difficili dopo una grande storia d'amore, insomma, e devono trovare la forza e il coraggio di venire fuori anche da questa sofferenza. Beh, ho faticato molto, però io credo che abbiamo tutti un angelo custode, nel senso che se noi comunque, come dicevo prima, siamo aperti e disponibili alle cose, misteriosamente molte cose arrivano, quando non ce le aspettiamo. E arrivò Don Lurio a salvarmi la vita. Ecco, che cosa ha fatto Don Lurio? Don Lurio mi raccolse, ero uno straccio, disperata. Vabbè, insomma, c'era una gravissima crisi coniugale e andai in montagna con un'amica alla sera, io ero una massaia dedicata al marito, alla figlia, e facevo le bambole, stai neri, facevo delle cose. Lavoravo molto a maglia, ero una perfezionista. Insomma, a morale, raccontavo a modo mio i miei due matrimoni. L'aspetto però dialettale folcloristico, non quello drammatico. E lui, senza dirmelo, mi segnalò Romolo Siena. Senti, e poi da questo incontro, da questo provino, è nato... Guardiamolo un attimo insieme, e poi dopo lo commentiamo. Vediamolo un attimo insieme al corno e si comanda. Ci colleghiamo ora con la nostra esperta, Iside Martufoni. Qui raccordo anulare, vi parla Martufoni Iside. Care amiche, sono qui per rispondere alle vostre lettere che mi giungono sempre più numerose. Cara Iride, ma come Iride che sono arcobaleno? Mi chiamo Iside. La mia vita grigia e malinconica si è improvvisamente illuminata da quando ho conosciuto un giovanotto. È ricco, distinto e simpatico. Ma è cinese. E i miei familiari si oppongono strenuamente al nostro amore. Non credi che sarebbe ora di finirla con questi stupidi pregiudizi? Eh no, eh, non credo proprio. I tuoi familiari c'hanno puro ragione. Cercate capirli. Cercate capito, mica che c'ho i pregiudizi razziali. Ma a me se firma ragioniere Arturo Scarpelletti. A ragioniere. Beh, cari amici, per stasera vedevo la sa perché Odello mio c'è un impegno in discoteca, io piace tanto ballare. Comunque, chiunque ci avesse un problema che l'accora, un dubbio che io erode, mi scriva pure a Martufonisi della Miraglia da Barduina, raccordo anulare, chilometro sei, quindicesimo lampione do per casello Anas. Qui raccordo anulare, a voi studio. Mamma mia, che brava, il suo primo programma in tv sulla Rete 2 ha tutto gag. E da lì la tua carriera. Primo lavoro in assoluto. In assoluto. Non ho mai fatto niente, ma hanno convinto a forza, perché io dicevo, ma non ho mai recitato. Ma, cioè, guarda qui, hai capito? No, hanno deciso inesorabile. Siete contro la tua volontà. Sì, perché io ero terrorizzata. Ma c'è uno anche che ti ha visto? Sì. Che ti ha visto e non ti ha fatto più andare via? No, perché ha visto il provino. Renzo, l'amico mio caro, carissimo. Renzo, Renzo Arbore. Grande Renzo, che salutiamo affettosamente. E che cosa ha fatto? Ti ha chiesto di fare un ulteriore incontro? Lui, nello studio di Minoglia, ha visto questa cosa? Perché io l'ho portato a Giovanni, perché eravamo amici, e ho detto, ma mi è capitata una cosa assurda a Giovanni. Porta, porta. Mentre lo guardavo, io stavo appiattita contro il muro, entra Renzo, perché dividevano l'ufficio a loro in quel momento. Si ferma a guardare e fa, beh, questa, ma chi è? Non la conosco. Io, così, si gira a Minoglia e dice, l'amica mia, Simona, così. E lui fa, dammi il tuo numero, perché se faccio una cosa importante ti chiamo. Tu così, dice, vabbè, Io a bocca aperta l'ho presa così, ho cominciato a fare altre cose, ho cominciato a fare teatro. Invece quella telefonata è arrivata. È arrivata. È arrivata. E ti ha detto, vieni. Dobbiamo fare qualcosa di notte. Chiamami. Di notte! Gigi! Di notte. E io ero, ho detto, ma come è possibile questa cosa? Ci siamo mai incontrati? No, poi alla fine. No, allora l'ho chiamato e ho detto, vieni che ti parlo perché c'è un'idea, così, è una cosa di sera tardi, tanto ci vedrà nessuno, non ti preoccupare. Ma era solo un mese prima. Ma sai che non se lo ricorda nessuno, quel programma fatto di notte, che non sono solo i programmi di Gigi Marzullo, ma c'è stato un programma che ce lo ricordiamo, ma forse no, forse qualcuno. Io sicuramente. Però sul Rai 2, eh? Io sul Rai 1. Senza, ma perché? Come si chiama questo look che lei sfoggia? Ci vorrebbe da gusti? Se ne è accorto, signor Arvore. Ma queste spalle nude? Beh, insomma, sono le spalle... C'è due modi di mettere questa cosa, no? Quando sto a casa, così. E poi in TV? Beh, perché mi pareva più carino. È il look Carmen. Il look? Carmen. Carmen! Oh, che bello, ma guarda. Mi è sembrato carino. Hai visto da così? Qua c'è sempre da imparare, il look Carmen. Senta, qual è la canzone richiesta? Io so che già la... Sì, sì, io sempre mi affretto perché vedo che il tempo stringe a tempo. Eh sì, perché... Allora, la canzone è Ciliegi Rosa. Ahia, ho capito. E la chiede la signora Carla Giacinti di Acilia per l'anniversario di nozze, sono 25 anni di matrimonio. Allora dice, fatemela sentire voi, perché mio figlio è prepotente e mi proibisce di toccare il giradischi. Perché sono 25 anni che suono questo disco e è molto rovinato e lui dice, gli rovino la puntina. Gliela facciamo fare da catalano, perché quello io lo so. Ecco, e da lì in poi. Ecco, maestro Campagnoli, senti. L'inventavate tutto, eravate senza copione. Andavate a braccio. Assolutamente. Gli altri, allora, Pazzaglia che era un genio, dava l'argomento del giorno dopo. E allora i personaggi definiti così, scrivevano il loro monologo. Io mi arrampicavo qua, là, chiedevo almeno le canzoni ditemi della serata, almeno qualcosa, perché no. Così ti preparavi qualcosa nella testa, almeno. Così, perché questo personaggio è uscito così proprio dal nulla. Quando Renzo mi disse, tu farei la telefonista, io dissi, sì, signor Arbore. È sposata, sì, Corobby, una perla, no? Perché è mio marito. E così via. E lui disse, va bene. Mi prese in accidere, dico, come va bene? Cioè, io pensavo agli autori, le cose, no? Niente. Così sono andata alla prima puntata, l'altro bombe di un infarto, però. E tutte le sere, però, ci divertivamo da matti. Perché naturalmente non facevamo le prove, non si faceva niente. Per cui ci trovavamo là, io cercavo di capire qualcosa, parlavo di Milva, oppure Carolina de Mora, qualunque cosa. È praticamente la piccola borghese, però tenera, una signora comunque, quella romana che alla fine è accogliente, è buona, come Roma. Sì, mamma Roma. Appunto. Comunque, sai, questo divertimento che voi vivevate lì, arrivava proprio nelle case, era prorompente, arrivava diretto, e quindi la gente lo seguiva. perché si divertiva con voi. Sì, ma all'ultima puntata i vigili chiusero non un occhio, ma tutti, perché c'era una folla nello studio. Ecco. C'era perfino Prodi dietro un cameraman. La tua vita è cambiata sia come donna che come professionista o no? Dopo quelli della notte. È cambiata perché ho cominciato a lavorare, e il lavoro mi ha proprio aiutato a vivere, assolutamente. Senti, ma tu ti ricordi come faceva quel pezzo? Maestro, tu te lo ricordi? Ma alla notte. Ma alla notte. Ma alla notte. Ma a tu. E one, two, three. Aspetta, 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 lo so. Ma dobbiamo andare in pubblicità. One, two, three. Simone, tu sei l'unica che lo conosce bene. Gigi. Ogni giorno la vita è una grande corrida. Ma alla notte no. Ogni giorno una notte chi sta sopra e chi sotta. Ma alla notte no. Vai, Simona. E il mattino è un po' grigio, se non c'è il dentifricio. Ma alla notte no. Gigi, tu ti guardi, no, no, non è a te. E ti sputi in un eggio. Ma alla notte no. E saliamo. E comincia il lavoro e dimentichi il cuore. Gigi. Ma alla notte no. Parli sempre e soltanto delle cose importanti. Ma alla notte no. E ti perdi la stima se non trovi la rima. Ma alla notte no. No. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sess. Ma alla notte no. Insieme. Che stress, che stress, che stress di giorno. Ma alla notte no. No, no, no. Che stress, che stress, che stress di giorno. Ma alla notte no. Che stress, che stress, che stress di giorno. Ma alla notte no. No, no, no. Che stress, che stress, che stress di giorno. Ma alla notte no. Giorno mi dormi così Giorno mi fai di sempre sì Malla notte, malla notte, malla notte Malla notte, Gigi Malla notte, malla notte Gigi Mazzullo Malla notte, malla notte, malla notte Malla notte, malla notte, malla notte, malla notte Grande, Simona Martini con la partecipazione straordinaria di Gigi Mazzullo Molto straordinaria, molto straordinaria Grazie maestro, maestro Campagnoli Grazie, grazie a te siamo tornati un attimo in quel clima meraviglioso Sì Senti ma allora tu hai appena finito la tournée di Minevaganti Sì Quindi con grande successo Infatti vedi come sono ridotta No, sei ridotta benissimo Sei ridotta benissimo, so che è andata bene Benissimo, una cosa incredibile Grande successo Siamo felici perché il teatro, a parte questo grandissimo testo di Fersan Ospite Che appunto il teatro ha proprio bisogno, no? Il live Sì ma la gente ha proprio voglia Perché il teatro è vivo Quindi non è come questo cinema che ha imperversato anche in televisione Facendo concorrenza insomma i distributi È un po' un disastro questo Però